Nelle ultime la Scuderia 3,32, 4,46, Soledad La Sol, sulla Jet 4,93 e 8,17 per Sissi de Glatigny, le più gettonate, corsa molto aperta, già appunto Maiden a fine tre anni, la dice lunga. Bene, mezzo meccanico in movimento, paletto dei 200 quasi, allineamento, Sahara Griff numero 3 di Galoppo, non prende il trotto, inizia a prendere velocità la macchina, non ne vuol sapere il numero 3 Sahara Griff, via la macchina in velocità. C'è lotta per il comando, poi la Spenta Cass nei confronti di Soledad, parte alla grande Simonetta numero 10 che è già lì, passa la targata La Sol con Sabato di Vincenzo, e dopo 200, in 3,17, la Soledad ha al comando, si completa la piegata, quindi Soledad, Spenta, Simonetta, si completano i 400 iniziali in 31 e viene via a bomba il numero 12 Sissi de Glatigny, che prende un po' tutti di sorpresa e piomba su Soledad, e Sissi de Glatigny passa dopo 600 metri di gara in 44,9 e così la lieve di Giuseppe Rucco al comando, è una figlia di Napoleon, si va al completamento del mezzo miglio iniziale con la targata Glatigny, completa in 59,9 addirittura da 1,15 e Sissi fa buona andatura e mantiene il comando, non avvengono variazioni, è ovvio, un'andatura veramente mozzafiato, il chilometro se ne va in 1,14 e 4,14 e mezzo di frazione il 9 a tabellone, cavalli che affrontano la curva finale, 400 alla meta, ancora un 14,3,1,28,7, tre quarti di miglio si affaccia Soledad e Soledad va su Sissi de Glatigny, poi la Spentacass, allunga Sissi de Glatigny e prende vantaggio poi la Spentacass che produce lo spunto e ci crede manini dolci, ci crede e ci prova, ci crede e ci prova la gioia della dottoressa Stefania Balzana, si toglie Maiden, Spentacass, ma un'ottima Sissi de Glatigny che ha fatto tutto lei, 1,59,6, 1,14,8 veramente questa Sissi de Glatigny è presentata da Peppe Ruocchi in un modo smagliante, ma manini dolci attende l'arrivo e così toglie Maiden, questa Spentacass, per la gioia di tutto il team e soprattutto della dottoressa Stefania Balzano, la quota 2,61 e oggi non era una Spentacass, ma molto via